ok ragazzi benvenuti al mio 21esimo giorno on the road questo è l'ultimo giorno pieno perché domani il 22esimo giorno si consegna la moto sono le 5 22 e niente mi sono svegliato presto per girare manhattan ho impostato brooklyn sul navigatore e andiamo nel centro di new york ovviamente dopo ci sarà il traffico oggi venerdì quindi mi sono alzato a quest'ora apposta andiamo a vedere un'altra parte Grazie a tutti. 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 Andrò andrò lo stesso a cercare il negozio. Grazie a tutti. 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 Anni che... Anni che... Grazie a tutti. E... 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 cool ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi sto cercando la Freedom Tower e salirò on the top. Sono stato qua nel 2006, quindi tantissimi anni fa, era in costruzione e sono curioso di salire in cima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono nato e cresciuto qua, deve essere una cosa veramente devastante vedere. E sapere che tanta gente così è morta proprio qua. Poi ho raccontato che in Italia ci sono un sacco di programmi che dicono che è stato il governo, che la storia delle bombe, che nei documentari fanno vedere che sembra che sia appunto esplosioni a catena che hanno fatto crollare Twin Tower. Lui chiaramente, cioè non chiaramente, lui dice che non ci crede, lui crede ai terroristi islamici. Qua ha tanti nomi delle vittime. Pensate cos'è accaduto qua ragazzi, pensate cos'è accaduto qua. Sono stato qua, dicevo nel 2006, ma è sempre emozionante. Pensate cos'è accaduto qua ragazzi, pensate cos'è accaduto qua. Pensate cos'è accaduto qua ragazzi, pensate cos'è accaduto qua ragazzi. Pensate cos'è accaduto qua ragazzi, 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 pensate cos'è accaduto qua ragazzi. Ora ho un po' di coda, faccio il biglietto e salgo sulla Freedom Tower. Praticamente ho pagato 10 dollari in più e dentro subito, quindi 53 dollari entrare qua. Ciao. Grazie. 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 Ciao Buongiorno 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 Pettys Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.